Un bilancio che segna un cambio di passo e con il quale sono stati affrontati i problemi risolti da anni. Così il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio ha presentato la manovra di bilancio votata ieri notte a maggioranza dal centrodestra con il voto contrario delle opposizioni, centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Marsilio non ha risparmiato una stoccata alla precedente amministrazione regionale, quella di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso, parlando apertamente di casse lasciate vuote dalla passata giunta. Quest'anno c'è un bilancio che permetterà dal 1 gennaio al 31 dicembre di coprire le spese, tutte le spese prevedibili naturalmente se ci saranno emergenze, urgenze e sopravvenienze lavoreremo come è normale che sia con delle variazioni ma certo quest'anno i fondi per la cultura ci sono e ci sono dall'inizio della stagione tutte le nostre istituzioni culturali potranno programmare, ci sono i fondi per la gestione delle società e degli enti come l'aeroporto, le altre aziende, ci sono i fondi per l'antincendio boschivo e per la protezione civile non c'erano quando io sono arrivato a governare la regione ed è un bilancio che contiene anche tanti soldi e tante nuove norme che riguardano il sociale e riguardano l'attenzione verso gli ultimi. Ma vediamo nel dettaglio il bilancio di previsione 2020 che nel complesso è pari ad oltre 6 miliardi di euro con spese complessive per quasi 4 miliardi e partite compensative di 2,2 miliardi di euro per sostenere la spesa corrente della regione è previsto un introito da tasse di circa 2,8 miliardi a cui si aggiungono 400 milioni di trasferimenti statali e 166 milioni di avanzo. Gran parte della spesa corrente è impegnata per il perimetro sanitario, oltre 3,6 miliardi mentre 30 milioni serviranno a coprire il disavanzo presunto pregresso per gli anni 2014 e 2015. Per quanto riguarda gli investimenti i settori principali sono quello della tutela del territorio e della mobilità a cui si assegnano rispettivamente 105,98 milioni di euro seguono i servizi istituzionali a cui sono destinati 85 milioni complessivamente ammontano a 435 milioni i fondi per investimenti previsti nel bilancio per il prossimo anno. Dai banchi dell'opposizione PD e Movimento 5 Stelle tuonano parlando di un bilancio illegittimo per i dem il documento è vuoto e irregolare, senza visione e indirizzo politico. Il PD respinge al mittente anche le accuse di aver lasciato le casse dell'ente a secco. E cioè noi abbiamo scelto di non partecipare a distribuzioni di ogni genere e abbiamo proposto il rifinanziamento di leggi di settore, di leggi per le opere ai comuni da finanziare sulla base di graduatorie, opere di urbanizzazione, viabilità, danni da calamità naturali. Questo è il modo con il quale bisognava impostare il bilancio andando incontro ai cittadini, alle imprese, ai comuni e non distribuire prebente agli amici degli amici. Da parte del Movimento 5 Stelle la capogruppo Sara Marcozzi parla di fallimento del centrodestra alla prima vera prova di governo. Marcozzi rivendica d'altro canto gli emendamenti portati a casa dai consiglieri pentastellati come ad esempio il contributo da 40.000 euro per il registro regionale dei tumori, i 250.000 euro di fondi per la vita indipendente, i 100.000 euro a favore della polizia locale e gli 80.000 euro destinati allo studio per la mitigazione del rischio idrogeologico a Lanciano.